Luna mangia la banana ma oggi non gli va e fa molti dispetti al fratello Santiago è molto monella luna non gli piace la panetta come la faccia sempre col miele li piace oggi ma aveva avuto il latte scusami addosso la mia sedia mamma mia nonostante tutti i dispetti di luna Santiago se la riuscita ride e fa bene perché la sua sorellina gli vuole tanto bene